Ogacar, gli altri correranno per il secondo posto. Thomas è uno specialista delle corse a tappe, potrebbe essere lui quello che gli dà più fastidio. E' anche una squadra forte, Thomas. Poi Martinez e gli altri. Adesso ho visto che Fortunato si è salvato bene, ieri speriamo che rimanga là nei primi 5-6. Diciamo che è in forma, ha già un bel vantaggio sul secondo, ci sono gli altri, però il giro è molto lungo. Quindi stiamo attenti e aspettiamo. Il favorito in assoluto lo sapevamo già, sapevamo già cosa poteva succedere a Torino e Europa e così è stato. Dire che poi sarà lui che arriva a Roma in Maglia Rosa, ci sono ancora 3.200 km, forse qualcosa meno, ha comunque più di 3.000 km a percorrere, le insidie ci sono. Rimane il grande favorito, bisogna capire chi sarà più che altro il suo grande avversario, che fino a ora non è che l'abbiamo capito ancora, perché non credo ce l'abbia mai.